È la regina dell'autunno, frutto delle nostre Alpe Puane, che ha caratterizzato l'economia montana e sfamato generazioni. La castagna sarà la protagonista della festa in programma domenica alla Baita Barsi, a pochi passi dal campo all'orzo sui rilevi camaioresi. Caldarroste, ballotti o l'immancabile castagnaccio, ogni modo è buono per gustare la castagna. Ci sarà anche tutta la cucina versiliese con i piatti tipici. La festa della castagna è organizzata dall'Associazione Amici della Montagna di Camaiore, che tutto l'anno, con iniziative sagre come quella storica della patata ad agosto, punta a vivacizzare questo lembo delle Puane e ad avvicinare i versiliesi alla scoperta della natura. C'erano due accompagnatori che partono da Badia e accompagnano fino sul Prana e poi alla Baia. Invece noi, come sottoscritto, un gruppo che parte già sabato per preparare il tutto per la festa. L'Amici della Montagna organizzano diverse feste sulla Baita Barsi, questa non è l'ultima dell'anno? No, ci sarà la prossima, credo il 17 di dicembre, e sarebbe l'ultima la festa della montagna. Una festa che l'abbiamo creata così per trovarsi da noi all'inizio, per festeggiare l'anno passato alla Baita. Poi ci sarà tutto un susseguizzi dalla festa dell'albero, frigo-mai. L'obiettivo, sì, far conoscere sempre la natura per quella che è, rispettarla a Marda.